Musica Gabriele Sciara e Rollo, Peugeot 106, sempre per la N2 Gabriele Sciara e Gianni Rollo, Gabriele sulle strade di casa naturalmente è importante essere presente Io spero che ci divertiamo, poi tutto il resto per Conte arrivare a divertirci Allora grazie naturalmente per essere qui con noi alla partenza, fateci divertire, te lo dico con un po' di presunzione per noi che staremo sui muretti Si guardano intorno i ragazzi dell'equipaggio 49 e adesso guardano il cronometro, pronti a sfrecciare Eccoli, via! Questo era l'equipaggio 49 Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.